L'osservazione della terra come strumento operativo per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente. Il Centro Operativo per la Sorveglianza Ambientale, afferente al Centro Nazionale per le Crisi e l'Emergenza Ambientale e il Danno dell'Istra, sviluppa prodotti operativi di monitoraggio ambientale basati su dati di osservazione della terra e procedure per l'elaborazione statistica di dati geografici, a supporto dell'attivazione dello stato di emergenza ambientale e a supporto della valutazione del dato ambientale. Lo sviluppo continuo dei prodotti di monitoraggio ambientale serve per garantire efficacia ed efficienza del supporto tecnico-scientifico operativo nelle situazioni di pregiudizio di emergenza ambientale e nelle presi ambientali. Vengono riportati, a titolo di esempio delle capacità dell'osservazione della terra come strumento operativo per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente, dei casi di studio realizzati per diverse applicazioni. Lo sviluppo di prodotti di mappatura a supporto della valutazione dei cambiamenti agli ecosistemi naturali e alla valutazione del danno ambientale costituisce un prodotto essenziale. L'ecosystem classification model sviluppata dal centro di sorveglianza ambientale viene realizzata a partire da una variabile risposta che è ottenuta dallo European Vegetation Archive attraverso l'utilizzo di un modello di classificazione supervisionata di tipo machine learning. Vengono utilizzate delle variabili ambientali di tipo geomorfologico, climatico, pedologico unite a delle variabili ottenute da dati di osservazione della terra satellitari, tipo spettrali e temporali. Il prodotto di mappatura degli ecosistemi naturali, forestali in questo caso, viene realizzato a una risoluzione spaziale di 20 metri e riferito ad un singolo anno. È validato con procedure di misura dell'accuratezza e corredato dalla stima di metriche di incertezza, come vengono riportate in questa figura. Il prodotto serve da supporto per la valutazione di numerose applicazioni di monitoraggio di disturbi e dei cambiamenti degli ecosistemi terrestri. La classificazione degli ecosistemi naturali è possibile anche a un maggior dettaglio tematico, come ad esempio le singole classi di habitat di direttiva e con l'utilizzo del proximal sensing, attraverso sensori montati su piattaforma drone ad esempio. Il dettaglio spaziale consente l'identificazione dei pattern spaziali che sono riconducibili a specifici ambienti naturali e che vengono utilizzati nel modello di classificazione, attraverso il calcolo delle matriche di paesaggio. Gli ecosistemi forestali sono ritenuti vulnerabili a rischio incendi e l'Unione Europea sta impiegando risorse per proteggere le nostre foreste e renderle più resilienti contro i rischi dettati dagli incendi, potenzialmente aggravati da altri agenti esterni come il vento forte, la siccità o gli attacchi da fitopatogeni. Pertanto le informazioni relative alle distribuzioni delle foreste, specialmente in quelle aree ritenute ad elevato rischio da incendio, sono essenziali per il monitoraggio alla gestione del territorio. I dati satellitari dell'osservazione della terra consentono di osservare gli incendi degli ambienti naturali. I dati acquisiti con sensori satellitari di tipo ottico multispettrale consentono di osservare il fenomeno a diverse lunghezze d'onda, con la capacità anche di penetrazione della colonna di fumo generato dall'incendio e quindi identificazione potenziale dei fronti attivi di fiamma. Questa immagine mostra come appare la situazione in una giornata estiva con numerosi incendi attivi, osservata dallo spazio e nello specifico per la regione Sicilia. Il prodotto di mappatura che il centro operativo per la sorveglianza ambientale è in grado di generare a poche ore dall'acquisizione satellitare che riporta le aree percorse da incendio e i fronti attivi di fiamma. I prodotti di mappatura sono generati nell'ambito di attività svolte a supporto dell'attivazione dello stato di crisi ambientale e dell'operazione di contrasto agli incendi boschili coordinate dall'unità di crisi del Dipartimento della Protezione Civile. Tra i prodotti generati per il monitoraggio dell'evento in corso ci sono aree percorse da incendio, i fronti di incendio attivo e identificazione degli elementi ambientali sensibili che ricadono nell'intorno dell'area interessata dall'evento. La mappatura delle aree percorse da incendio distribuita dal servizio copernico SEM Emergency è unita alle informazioni relative alla distribuzione degli ecosistemi terrestri e consente di generare statistiche delle aree interessate dal disturbo e quindi soggette a cambiamenti. La situazione degli incendi per l'anno 2020 nelle regioni più colpite viene mostrata qui per la regione Sicilia, Sardegna e Calabria. Particolare attenzione viene posta per le aree naturali che sono sottoposte a vincolo di protezione come parchi nazionali, regionali, riserve nazionali e regionali e siti protetti dalla rete Natura 2000 europea. Per quanto riguarda le statistiche degli incendi in ecosistemi naturali avvenuti nel corso dell'anno 2021 sul territorio nazionale abbiamo quasi 170 mila ettari percorsi di incendio di cui una buona parte, oltre 20 mila ettari, sono costituiti da foreste di latifoglie sempreverdi, quasi 10 mila ettari latifoglie decidue e quasi 7 mila ettari da foreste di arifoglie sempreverdi. Anche una cospicua superficie di aree protette nazionali e regionali e siti di Natura 2000 è stata percorsa da incendio nel corso dell'anno 2021. Il monitoraggio ambientale con l'utilizzo di strumenti di osservazione della terra nell'ambito di spessore di inquinanti in atmosfera costituisce un'altra attività di monitoraggio possibile. Parliamo sempre di eventi di tipo incendiario, in questo caso viene riportato un evento accidentale che è interessato a un sito industriale, quindi stiamo parlando di un incendio antropico. I dati satellitari utilizzati sono quelli acquisiti dal satellite MSG Seviri, che è di tipo geostazionario e consente osservazioni con una frequenza di 15 minuti e a una risoluzione spaziale chilometrica. L'immagine riportata consente di osservare come si può monitorare l'evoluzione nel tempo della dispersione degli inquinanti in atmosfera generati dall'evento incendiario. La generazione di statistiche su base spaziale per identificare l'unità amministrativa interessata dal passaggio degli inquinanti atmosferici è di supporto anche per la definizione di un piano di campionamento per la misura delle potenziali ricavite a terra degli inquinanti da pluma atmosferico. La dispersione del pluma atmosferico, che è propagata dagli incendi in un sito di trattamento dei rifiuti, viene in questo caso mostrato in figura ed è frutto dell'elaborazione di un dato satellitare a risoluzione spaziale subchilometrica, centinaia di metri, che è acquisita da un satellite che ha un'orbita eliosincrona e quindi un'acquisizione che è giornaliera o di ogni, con un periodo di rivisita di più giorni. Tra i limiti delle osservazioni satellitari c'è quella della copertura nuvolosa e nei tipi di dato ottico multispettrale o iperspettrale, che però rappresenta un limite a fronte di tanti invece vantaggi. Oltre alla dispersione degli inquinanti in ambiente atmosferico ci sono anche le possibilità di monitoraggio e analisi delle anomalie radiometriche per identificare le aree in ambiente acquatico che sono interessate dalla dispersione di inquinanti. In questo caso specifico sono stati utilizzati i dati acquisiti da satelliti con elevata risoluzione spaziale, decine di metri, i satelliti hanno l'orbita eliosincrona e una rivisita temporale di alcuni giorni. Combinando più acquisizioni satellitari anche da diverse piattaforme satellitari è possibile monitorare l'evoluzione nel tempo fino all'estinzione del fenomeno di dispersione. Queste informazioni possono essere utilizzate come supporto alla valutazione delle aree marine dei tratti costieri interessati dalla dispersione e a supporto degli interventi di riduzione della contaminazione, di valutazione del danno ambientale e di interventi di bonifica e ripristino ambientale. Viene utilizzato anche a supporto delle attività di monitoraggio il prodotto di modelli numerici per l'interpretazione dell'evoluzione del fenomeno di dispersione e anche quello di utilizzo delle misure dalla rete osservativa, in questo caso della rete mariografica nazionale che fornisce parametri meteorologici e mariografici a supporto dell'interpretazione del fenomeno di dispersione. Oltre all'utilizzo dei dati ottici multispettrali c'è anche la possibilità di utilizzare osservazioni satellitari da strumenti di tipo radar ad apertura sintetica, è uno strumento efficace per specifiche applicazioni che ha la capacità di penetrare le luvole. In questo caso è stato utilizzato per identificare l'areale di dispersione degli idrocarburi sversati a mare e usato insieme a dati di tipo ottico multispettrale, quindi una sinergia di informazioni. Altra attività di monitoraggio può essere realizzata per la fenologia della vegetazione che si occupa della definizione delle fasi di sviluppo che si chiamano fasi fenologiche delle piante e dell'identificazione delle date in cui si verificano. Il prodotto di mappatura delle metriche di fenologia viene realizzato utilizzando serie temporali di indici di vegetazione e sono stimati da dati satellitari di tipo ottico multispettrale ad elevata risoluzione spaziale. Viene effettuata una rigorosa coregistrazione spaziale delle immagini satellitari e un'interpolazione temporale funzionale alla stima delle metriche di fenologia. I prodotti sono validati con l'utilizzo di serie storiche acquisite da fotocamere posizionate in campo e informazioni danno un'idea nella dimensione spaziale e temporale che consente l'identificazione di anomalie legate all'azione di agenti di disturbo di ambienti naturali e al recupero degli ecosistemi. Il disturbo agli ecosistemi può avvenire attraverso diversi agenti che possono essere di tipo naturale abiotico o biotico e disturbi antropici. Al disturbo possono seguire un degrado che ha un impatto negativo misurato nel lungo periodo o un recupero che è quello legato ai processi di rigenerazione della vegetazione e che è influenzato da diversi fattori ambientali. Il monitoraggio della fenologia della vegetazione attraverso l'utilizzo di serie temporale può essere a supporto di procedure di valutazione del danno ambientale. L'identificazione di anomalie nel segnale temporale riferito a un disturbo, in questo caso viene riportato quello su un habitat di direttiva, può essere utilizzato per il supporto alle procedure per un illecito di tipo ambientale. Altro tipo di identificazione di anomalia è quella legata ai tagli forestali che possono essere identificati e caratterizzati rispetto ad informazioni come ad esempio la data di cedulazione. Questo prodotto può essere a supporto di identificazione di illeciti per la lavorazione del danno ambientale, qualora i tagli forestali non siano autorizzati. L'analisi del cambiamento della copertura di vegetazione può essere effettuato anche usando coppie, una serie di coppie di acquisizioni satellitari e nell'esempio viene riportato il caso di un'area limitrofa o un monumento naturale in cui è stato fatto un'analisi del cambiamento della copertura di vegetazione. Altra tipologia di disturbo è quello dei focolai, parassiti delle piante. I prodotti di mappatura possono essere utilizzati per l'identificazione di focolai come quello della cocciniglia che ha interessato alcune aree del centro-sud Italia, in particolare le regioni Lazio e Campania negli ultimi due anni. colpisce soprattutto la specie pinospinea e il controllo ambientale che è dovuto a competizione con gli altri organismi non si è rivelato finora efficace nella prevenzione dell'espansione dei focolai. L'indicatore utilizzato per la valutazione dell'area che è interessata dal focolare di parassita è quello della superficie fogliare fotosinteticamente attiva e della sua variazione, quindi differenza nel periodo estivo. Nello specifico qui viene riportata la differenza tra gli anni 2020-2021 rispetto al periodo 2016-2019. Nel corso sono mostrate le aree con l'anomalia dell'indicatore e in cui verosimilmente sono presenti i focolai di cocciniglia all'interno della tenuta presidenziale di Castelporziano. Grazie per l'attenzione.